Beh, domani andiamo a mare? Sì, 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 sì. Ti farò una cosa tranquilla, io, tu e tuo figlio. E certo, con chi dobbiamo andare? Con un battaglio da San Marco? E mi raccomando, mangiamo leggeri. Ti prometto che faccio solo la parmigiana. Solo parmigiana. Allora, gheri muerta la cristiana. Avevi detto solo la parmigiana. Dove le dobbiamo mettere tutte quelle cose? E se alle 4 e mezza ti viene fame? Perché gli dobbiamo regalare i soldi a quello del nero? Va pure la macchinetta del caffè portato. Certo, il caffè è la stagia, costa 4 mila. Basta che andare a mossa però, eh. E questa? E che la dovevo lasciare da sola a casa? E se le viene da fare pipì? E c'è te, un pastore tedesco? Vabbè, signor, non è che c'hai bagagli, valigie, pure tu, no? Io ho solo una borsa. E dove sta? E quella borsa, eh? Mi mantieni legale. Io sono pronto. Sedia, bambolotto e palloni. Mannaglio le muerze sui bagnoni. Lo sai che tuo figlio senza quella sedia non mangia. Ciao, signor Maria. Ciao, bello mio. Pure tu stai venendo? La verità sono 4 giorni che sto chiuso qua dentro. Ah, sta in castigo? Sono ricercato dalla polizia, finanza e forestale. Quale castigo? Mo fatti i cazzi tu e nascondimi nella borsa frigo.